Ora, il signor Rogers è sicuramente una delle migliori cose che siano mai successe per la televisione pubblica ed il premio Peabody è il testamento di questo fatto. Noi della televisione pubblica siamo fieri di Fred Rogers e sono fiero di presentarvi il signor Rogers. Bene Rogers, vi ha spianato la strada. Senatore Pastore, questa è una dichiarazione filosofica che richiede circa dieci minuti per leggerla, ma non farò questo. Una delle prime cose che un bambino impara in una famiglia sana è la fiducia e io ho fiducia su quello che avete detto che leggerete questo. È molto importante per me. Mi interesso molto dei bambini. Il mio primo bambino... Ma farebbe felice se lo leggessi? Mi farebbe piacere parlare di questo. Va bene. Il mio primo programma per bambini è stato sulla WQED a 15 anni fa e il budget allora era di 30 dollari. Ora, con l'aiuto della fondazione Sears Rebac e l'educazione nazionale televisiva, così come tutte le stazioni affiliate, ogni stazione paga per diffondere il nostro programma. È l'unico tipo di finanziamento nell'educazione televisiva. Con questo aiuto adesso il nostro programma ha un budget di 6.000 dollari. Può suonare abbastanza differente, ma 6.000 dollari pagano meno di due minuti di cartoni animati. Due minuti di animazione. Quello che qualche volta chiamo bombardamento. Sono molto preoccupato e so che lo siete anche voi per quello che viene distribuito ai nostri bambini in questa nazione. Ed ho lavorato nel settore dello sviluppo dell'infanzia per sei anni, cercando di comprendere i bisogni interiori dei bambini. Ci occupiamo di cose come dei drammi interiori dell'infanzia. Non dobbiamo colpire qualcuno sulla testa per fargli fare dei drammi sullo schermo. Abbiamo a che fare con cose simili, come farci fare un taglio di capelli, oppure dei sentimenti per i fratelli e le sorelle, e il tipo di risentimento che si crea nelle semplici situazioni delle famiglie. E parliamo di questo in modo costruttivo. Quanto dura questo programma? È di mezz'ora ogni giorno. Molti sono programmati per mezzogiorno, così come per la sera. La WETA qui è programmata per il tardo pomeriggio. Possiamo avere una copia di questo in modo da vederlo? Magari non oggi, ma mi piacerebbe vedere il programma. Mi farebbe molto piacere. Mi piacerebbe che ognuno potesse vedere il programma. Quello che voglio dire è che facciamo centinaia di programmi per la EN, la rete di educazione orientale, ed una volta che è finito il denaro, le persone a Boston, Pittsburgh, Chicago, vengono tutti alla ribalta dicendo che dovremmo averne altri di questi aspetti di attenzione che ci circondano. E questo è quello che offro. Offro un tipo di attenzione ogni giorno per ogni bambino, per aiutarlo a realizzare che è unico. Finisco il programma dicendo, tu hai fatto di questo giorno un giorno speciale, semplicemente essendo te stesso. Non c'è nessuna persona in tutto il mondo come te. E mi piaci per essere quello che sei. E sento che se noi, della televisione pubblica, possiamo semplicemente trasmettere con chiarezza che si possono menzionare e trattare i sentimenti, avremo dato un enorme servizio per la salute mentale. Penso che sia molto più drammatico quando due persone sono in grado di esternare i loro sentimenti di collera. Molto più drammatico che mostrare qualcosa come sparare con le armi. Sono costantemente preoccupato di quello che vedono i nostri bambini. E per 15 anni ho cercato, in questa nazione e in Canada, di presentare quello che sento che è una maniera significativa di prendersi cura. La narrata? Sono l'ospite, sì. Faccio le marionette e scrivo in toto la musica e scrivo i copioni. Suppongo di essere anch'io un tipo forte, ma è questa la prima volta che ho la pelle d'occa negli ultimi due giorni. Le sono molto grato, non solo per la sua pelle d'occa, ma per il suo interesse nel nostro tipo di conversazione. Posso dire le parole di una delle canzoni dove sento che è molto importante? Certo. Questo ha a che fare con buon sentimento del controllo, dove sento che i bambini hanno bisogno di sapere, e questo inizia così, cosa fai con la follia che senti? E la prima rima arriva direttamente dal bambino. Ho lavorato con i bambini facendo i burattini e con vere comunicazioni personali, con piccoli gruppi. Cosa fai con la follia che senti quando ti senti così folle? Puoi mordere. Quando l'intero pazzo mondo ti sembra così sbagliato e nulla di quello che fai sembra assolutamente corretto, che cosa fai? Prendi appugni nel sacco? Pesti l'argilla o l'impasto? Raduni gli amici per un tiro alla corda o per fare una corsa di velocità? È importante essere capaci di fermarsi quando avete ideato di fare una cosa che è sbagliata ed essere capaci di fare qualcos'altro invece e pensare a questa canzone. Posso fermarmi ogni volta che voglio? Posso fermarmi quando lo desidero? Posso fermarmi, fermarmi ogni volta? E che altro buon sentimento come questo? Sapere che questo sentimento è veramente mio. Sapere che c'è qualcosa di profondo all'interno che ci aiuta a diventare quello che possiamo. Per una bambina diventare un giorno una signora e un bambino diventare un giorno un uomo. Penso che è meraviglioso. Penso che è meraviglioso. È come aver appena vinto 20 milioni di dollari.